ciao a tutti ben trovati sul mio canale oggi nuovo video tutorial e saranno oggetto del tutorial questi orecchini che vi mostro in primo piano sono in particolare questi qui quelli del tutorial in questi colori spero che vi piacciono ho deciso di chiamarli orecchini seri dedicato a mia nipote serena che da un grande bacio e un abbraccio zia ti voglio bene quindi mi sono resa conto che non ho mai dedicato le mie creazioni ai miei nipoti quindi incomincerò con la nipotina più piccola serena e poi vedremo di fare anche altre creazioni dedicate alle altre nipotine intanto incominciamo con gli orecchini seri questa è la prima versione in questi colori classici avorio e nero con super duo duets e rocaille cipollottini e perla svaroschi da 8 mm modulino molto semplice anche adatto alle ragazze che sono le prime armi in particolare un modulino versatile in quanto ho pensato soltanto ora che si potesse fare anche un anello e secondo me verrebbe un anello veramente molto molto carino vedete faccio vedere secondo me un anello ci sta tutto è sicuramente lo proverò magari all'interno di questi tra un cipollotto e l'altro aggiungerei una rocaille oppure spaziate voi con la fantasia vedete un po che cos'è che mi può ispirare di più invece di lasciare questo spazietto aggiungerei qualcosa non ho pensato prima di farlo ma purtroppo è pazienza bene questo è il modulino di quest'oggi spero che vi piaccia se il video è di vostro gradimento vi raccomando pollice in su iscrivetevi al mio canale se ancora non lo fate e soprattutto troverete tutte le informazioni e l'elenco dei materiali nell'info box ciao allora per effettuare gli orecchini di quest'oggi e il materiale utile sarà il seguente utilizzeremo dei cipollotti 3x4 io userò di questo colore che veramente mi piace molto 3x4 poi super duo duets utilizzerò di questa colorazione super 2 monocolore che servirà per alcune alcuni passaggi questo però è a vostro piacere questo colore qui perla 8 mm svaroschi di questo colore una per ogni orecchino ma anche questo è a piacere vostro se volete inserirla poi due colori di rocaille 11 0 e anche e anche in questo caso sempre a vostra discrezione scelta io utilizzerò di questo di questi colori toco e le 15 0 per fare il cappiolino quindi ne serviranno proprio quattro di conto e utilizzerò di questo colore sempre della toco dopodiché ci vorrà filo di nylon capperlanda van 20 mm o qualunque di nylon che abbiate a disposizione questo l'ho acquistato a decathlon e ago della miuki extra fine monachella a piacimento vostro passiamo al tutorial partiamo inserendo nel lago questa sequenza dove inserirò le super 2 super 2 duets in coppia facendo capitare il colore chiaro centralmente e alternando con le rocaille esternamente la coppia quindi inserirò 12 super duo quindi messe in coppia sono sei coppie e 6 rocaille 11 0 io farò questo contrasto di colore se sceglierò di mettere all'interno della coppia di super 2 che pizza ecco il colore chiaro metterò la rocaille di colore più scuro dove capiterà il colore più scuro più scuro anche della della super 2 in questo modo ripassiamo all'interno del lavoro con il filo e chiudiamo con un paio di nodi eccoci a giro completato cosa ci troveremo usciamo dalla super 2 dove sotto abbiamo la rocaille essendo appunto la parte interna qui dove c'è la rocaille di colore blu io vado ad inserire la super 2 monocolore che ho scelto proprio per andare a rafforzare il colore e la mettiamo in questo modo adesso nella coppia invece andrò a inserire la crocaille di colore chiaro che riprende appunto il colore chiaro anche delle super 2 tutto questo ovviamente se volete fare questo effetto questo gioco di colore che ho fatto io ora proseguiamo così per l'intero giro inseriamo la super 2 rocaille per così così faremo per tutto il giro completato il giro troviamoci ad uscire dalla rocaille 11.0 all'interno della coppia di super 2 inseriamo nell'ago 3 rocaille 11.0 e io userò sempre queste di colore chiaro e rinseriamoci nel capo opposto da dove esce il filo come potete vedere il filo esce da questo lato io rinserisco l'ago da quest'altro in modo da formare questo picco adesso dovrò continuare per tutto il giro quindi rinserendomi nelle super 2 vado di nuovo ad uscire dalla rocaille che mi trovo davanti successiva di nuovo vado ad inserire nell'ago 3 rocaille e rifaccio come vi ho fatto vedere poco fa facciamolo per l'intero giro e ci vediamo a fine giro finito il giro ci troveremo a questo punto e usciremo da questa rocaille qui sotto vi consiglio eventualmente di rifare un giro di rinforzo cosa che non mi ho fatto fare prima però dipende molto dal filo che utilizzate se vedete che il lavoro è ancora un po lento fatelo un giro di rinforzo prima di inserire le rocaille 11.0 in modo da irrigidire di più allora a questo punto dopo aver fatto il giro di rinforzo mi porto ad uscire dalla super 2 qui dal secondo foro essendo che usciamo dal filo questa parte bassa della rocaille inseriamoci nella prima super 2 nella seconda che ci troviamo davanti per poi salire con il filo su in questo modo e a questo punto girerò il lavoro per comodità quindi ci troveremo ad uscire così ora inseriamo nel lago il cipollotto 3x4 la rocaille sempre del colore chiaro entriamo nella rocaille che ci troviamo davanti di nuovo inserisco invece invertendo una rocaille e un cipollotto quindi invertirò e mi inserirò nella super 2 come mi trovo davanti e lo dobbiamo fare per quattro volte totali quindi 12 ripetiamo di nuovo cipollotto rocaille e mi vado ad inserire nella rocaille davanti e adesso di nuovo rocaille e cipollottino e mi inserirò nella super 2 che mi trovo davanti ecco cosa ci troveremo dopo averlo fatto per quattro volte a questo punto una volta che abbiamo fatto questo dunque ci troveremo ad uscire da questa super 2 e a questo punto inserirò nel lago una coppia di super 2 duet lasciando il colore più chiaro internamente in questo modo e mi vado ad inserire nella rocaille stessa cosa di nuovo inserirò una coppia di super 2 duet inserendo ovviamente il colore chiaro all'interno della coppia e uscirò da questa super 2 a questo punto dovremmo ripetere gli stessi passaggi che abbiamo appena fatto dove abbiamo inserito i cipollotti e le rocaille inserendo dove abbiamo dove usciamo dalla super 2 inseriamo prima il cipollotto e la rocaille 11 0 c'è il mio cane che fa avanti e indietro sentite le zappettine le sue zampette comunque cipollotto rocaille 11 0 e inserirò nella rocaille successiva che mi trovo davanti adesso sposta anche la cuccia rocaille cipollotto e mi inserisco nella super 2 di nuovo ripeto lo stesso passaggio quindi cipollotto rocaille rocaille cipollotto quando usciremo da questa super 2 inserirò le due coppie di super 2 come abbiamo fatto su questa parte facciamole ci troviamo a lavoro completato ecco fine inserimento cosa ci troveremo e usciamo dalla super 2 che vedete qui quel monocolore adesso non dovremo fare altro che con l'ago il filo senza inserire nulla passare a questo cipollotto qui quindi passeremo all'interno di tutte le perline qui andremo direttamente sopra la super 2 e passiamo al cipollotto uscendo da questo cipollotto qui facciamolo e ci vediamo fra un secondo bene come vi avevo detto uscendo da questo cipollotto inseriamo nella cipollotto una rocaille 11 0 e ci inseriremo nella coppia di super 2 che troviamo davanti a questo punto all'interno della coppia inseriamo di nuovo una rocaille 11 0 sempre del colore chiaro e tra le due coppie dove sotto abbiamo la rocaille inseriamo la super 2 di monocolore e ci inseriamo nella super 2 successiva e sarà vedete in punta di nuovo rocaille 11 0 e ci inseriamo nella super 2 davanti altra rocaille 11 0 e ci inseriremo nel cipollottino a questo punto faremo la stessa identica cosa ripassiamo con il filo all'interno di tutte queste perline uscendo da questo cipollotto qui e rifare lo ste per rifare lo stesso passaggio che abbiamo fatto su questo lato eccoci completare l'ultimo passaggio inserendo la rocaille prima del cipollotto e a questo punto mi inserirò di nuovo in tutte le perline che mi trovo davanti adesso lo faremo insieme di nuovo passerò nel cipollotto scavalco la super 2 quindi non mi vada ad inserire nel foro della super 2 vado direttamente al cipollotto successivo ripasso in tutte le perline fino ad uscire inseriamoci anche nella super 2 qui e questa di punta questo punto dovremo fare solo il cappiolino e abbiamo finito il lavoro ho girato il lavoro per comodità mi vado ad inserire nella parte superiore della super 2 quindi nel foro alto e a questo punto una volta uscita da questa super 2 che cercherò di far mettere a fuoco quando le perline in fondo purtroppo va fuori fuoco ok a questo punto inserirò le rocaille 15 0 4 rocaille compreso di monachella e mi vado a rinserire nel foro della super 2 al lato successivo ora passiamo più volte in questo giro per rinforzare e dobbiamo portarci con l'ago ad uscire da questa rocaille oppure questa qui in modo da inserire la perla centrale per chi la volesse inserire altrimenti per chi non vuole inserirla può anche lasciare il lavoro in questo modo quindi rinforziamo il cappiolino ed entriamo in tutte le perline finché arriviamo ad uscire da questa rocaille centrale eccomi che mi sono portata ad uscire da questa rocaille come vi avevo detto poco fa a questo punto inserito la perla da 8 mm e non dovremo far altro che rientrare nella rocaille in modo speculare quindi dal lato opposto entrando da un verso dall'altro l'importante che poi quando andremo a rinforzare entreremo al lato opposto da dove siamo entrati vabbè scusate il gioco di parole quindi a questo punto rientriamo in questo modo in modo da fare una sorta di 8 ecco quello volevo intendere se entreremo in questo modo ok riuscendo quindi da questo lato mi vado a rinserire nella perla nel foro della perla e andrò ad inserirmi nel lato opposto da dove sono entrata prima quindi se prima sono entrata dal lato destro vedete adesso mi vado ad inserire dal lato sinistro della rocaille purtroppo va continuamente fuori fuoco oggi non capisco se è proprio il telefono oppure sono le perline in sfondo che mi creano questo problema ecco diceva appunto non so se riesco a farvi vedere sono entrata da questo lato per inserire la perla a questo a questo punto dopo averla inserita dall'altro lato da questo lato qui sono rientrata con il filo e mi rinserisco al lato opposto quindi da quest'altro lato per formare una sorta di 8 con il filo in modo da metterla in maniera precisa mi fa un po di capricci va bene voi inseritevi ci vediamo fra un secondino ecco mi sono riuscita finalmente ad inserirmi nella rocaille mi faceva un po di capricci quindi mi sono rinserita mi rinserisco di nuovo nel foro della perla anche perché ora dovrò rinforzare un pochino questo questo inserimento di nuovo ripasserò nella rocaille poi di nuovo nella perla nella rocaille per la finché non vedremo il nostro lavoro stabile questa perla molto ferma e stabile nel nel complesso del modulino una volta fatto questo il modulo è completato e non dovremo far altro che rinserirci magari nel lato esterno del lavoro fare dei nodini continuare fare altri nodini per poi chiuderlo completamente e il nostro orecchino sarà completato eccoci giunti al termine del tutorial spero che il tutorial sia stato di vostro gradimento vi saluto un abbraccio a tutti i nuovi miei iscritti anche coloro che mi seguono da tanto tempo grazie perché il canale sta crescendo tanto e appena avrò modo è una cosa che ho già detto vorrei fare un contesto qualcosa di simile per ringraziarvi perché vorrei premiare qualcuno di voi e appena avrò un po di tempo lo farò ve lo prometto e seguitemi per avere tutti gli aggiornamenti e grazie ancora ciao